Le dimissioni sono l'atto ultimo e conseguente di un percorso lungo e anche travagliato che abbiamo portato avanti in questi mesi, nell'unico interesse della città, cercando di raddrizzare le sorti di una azione amministrativa lenta, impacciata, deludente rispetto ai risultati attesi e anche al metodo con il quale si è lavorato. Una delusione tra l'altro che è palesata da tutti i consiglieri, nessuno escluso, a porte chiuse, salvo poi pubblicamente cercare di ripararsi dietro delle scuse che secondo me non reggono assolutamente, perché non si può oggi venire a dire che ci sono dei problemi da risolvere, è vero ci sono, ma non può essere questa amministrazione a risolverli visto che non è stata in grado di risolverli nei 16 mesi in cui ha amministrato e anzi in questi 16 mesi probabilmente si sono acuiti queste difficoltà, queste situazioni. Così come non si può giustificare una scelta di questo tipo dicendo semplicemente la città tornerà a essere governata dal centro-destra. Io credo che di fronte a degli errori, a un fallimento amministrativo e politico amministrativo, così come è stata questa esperienza, prima di tutto bisogna avere il coraggio di fare mia colpa, di riconoscere i propri errori, piuttosto che cercare delle giustificazioni a quanto non si è stato in grado di fare. Io credo che con la nostra scelta abbiamo dimostrato che sia più opportuno probabilmente riconsegnare la scelta agli elettori, ai cittadini algheresi, perché la città non può essere amministrata in questa maniera, non si può non decidere. Questa è stata l'esperienza di questi mesi. E allora oggi assistiamo anche a uno scaricabarile di responsabilità da parte di chi in qualche maniera cerca di salvarsi, di giocare al gioco del si salvi chi può, attribuendo ad altre responsabilità, magari esercitandosi nell'arte del dileggio. Io credo che sia un esercizio poco edificante, che non fa onore a chi si esercita in questo gioco. Credo che sia più opportuno prendersi le proprie responsabilità. Con l'atto delle dimissioni ci siamo presi le nostre responsabilità, delle responsabilità condivise all'interno di percorsi democratici fatti nei rispettivi partiti. E allora oggi certamente è un giorno triste, è un giorno mesto, ma credo che da qui si possa ripartire con la consapevolezza che non si poteva fare diversamente e che tutte le persone di buona volontà oggi e domani ancora di più devono concorrere alla costruzione del bene della nostra città.